Ciao a tutti ragazzi, io sono Mamma Veri E io sono Emi, ci diciamo Mamma mia e family, oggi facciamo un video particolare, facciamo un unboxing Della spesa di Kira Kira sei contenta? Abbiamo preso delle cose particolari oggi A parte tutte le sue pappine Di tutti i tipi, merluzzo, maiale, agnello, polo, tacchino, anatra, va bene Abbiamo delle cose molto carine per Kira A me non piacerebbe l'anatra, va bene Ma tu non sei un cane, non ti puoi mangiare l'anatra, è normale Ma pure gli umani se la mangia l'anatra No, quella del cane, dico, non te la potresti mangiare Però gli umani sì, se la mangiano, se vogliono Allora, abbiamo tutto il cibo per Kira Questi sono curiosi Questi sono degli ossicini di pollo Perché sembra proprio pollo Sembra quando ti finisci al centro il pollo e ti rimane Infatti, sembrano, diciamo, i resti di una coscia di pollo Kira, il pollo Il pollo Poi abbiamo dei premietti Vedi che belli a forma di osso Guarda, che carini Che carini E dai, Kira, togliti Poi abbiamo dei premietti Sushi Guardate che belli Con salmone Non so cosa altro c'è, non capisco Va bene, comunque sono forse a base di pesce Perché sushi, guardate la forma Adesso vi facciamo vedere la forma Guardate C'è una forma di pesce Il vero, il vero Diciamo, una riproduzione del sushi Il rotolino Questo è il suo dentifricio Poi abbiamo preso anche il dentifricio Guardate Con lo spazzolino che aveva già Con lo spazzolino che aveva già E che il dentifricio gli era finito Il dentifricio era finito Abbiamo preso il dentifricio nuovo Guardate, alla menta Apri la bocca Adesso ti dovrai lavare i dentini Però prima Kira, vieni qua Prima di lavare i dentini, Kira Cosa devono fare? Attivare la campanella Iscriversi E lasciare like E commentare tutti i nostri video Brava Oh yeah Allora Kira No, io non lo so che cosa gli vorrei dare Deve scegliere Kira Allora, io gli vorrei dare No, devo scegliere Kira Eh, vabbè, ma lei si mangerebbe tutto No, vediamo dove si avvicina per primo Eh, ma adesso sono tutti chiusi Allora, io gli darei per curiosità Un sushi E poi un ossicino di pollo Anche io Proviamo? Sì Ok, aspetta che Ah, no, c'è scritto C'è qua Ok Wow, vediamo in diretta Ehm, quelle le darai con la forma di pesce Mangia, vediamo se ti piace Ti piace Wow Ok ragazzi, se l'è presa Se lo mangia Lo annusa Che cosa fa? Se lo mangia Se lo mangia? Sì Non lo riesce a mangiare forse Forse glielo devi fare a pezzetti Ma no, Kira devi farlo tu Non essere pigra Mangia Ok, adesso non lo riesce a mangiare Ecco, bisogna tenerglielo Che schifo Perché è un po' duro Non è che è duro E forse lo vedi piccolino così Ehm, eccolo Eccolo Brava Ti piace? Ehm Ma ha un odore Diciamo Ehm Infatti Ehm 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 Dai va bene Oggi facciamo l'unboxing E glielo diamo Poi la prossima volta Facciamo qualche giochino E vediamo se lei Obedisce Soltanto con qui Biscottini a forma di osso Lo facciamo magari Va bene Va bene Sì Oggi ti abbiamo fatto provare Il sushi Ora Come ultimo Perché non ti voglio Far ingozzare di cibo Voglio darti Un ossicino di pollo Vediamo No Sì come ultimo Non possiamo far ingozzare il cane Dai va bene Ma no Quello poi la prossima volta Facciamo No Quello soltanto adesso Dai No uno Uno per fargli lo assaggiare Va bene dai uno Daglielo Uno vediamo No prima uno di questo Aspetto che apro Ok Allora prendine uno E vediamo Se dicendo seduta Lei ascolta Kira Seduta Vediamo Kira Seduta 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 Siediti Kira Io lo devo dire Seduta Kira Seduta Seduta Brava Ah vediamo gli piace questo Vediamo Wow Ma tu non lasci niente Sei un aspirapolvere Aspirapolvere Zampa Zampa Oh mio dio Basta Però se adesso si ingozza Basta 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 Ora ti do Sì così Ora ti do Un ossicino Ma io lo do io Come si apre Mentre poi Faremo un video Dove vediamo Se si laverà i denti Ok Perché adesso Lei l'ossicino Sicuramente Se lo vorrà sgranocchiare Quindi non facciamo In tempo a fare Vedere Anche il dentificio Però ti faremo Vedere anche Posso riprendere io Mentre lo apri Che cosa Che cosa Ok va bene Che tu amerai Questi Seduta 3 2 1 È andata Che fai sul mio letto Con quell'osso puzzolente Adesso devo prendere le lenzuola Che schifo Me lo dai Oh Oh